Presto quindi partirete? Partiremo sì, in occasione del 150esimo anniversario della Via Crucis c'è stato questo regista tedesco che ha voluto una collaborazione da parte nostra a livello culturale e abbiamo pensato di coinvolgere il coro La Presolana il coro La Presolana il quale si è dato disponibile a inserire nel proprio repertorio qualcosa che potesse essere compatibile a questa Via Crucis lo stesso regista è sceso, molto entusiasta e ha assistito alle prove è stata anche un'occasione per fargli vedere le bellezze del nostro posto per cui il mese prossimo adesso ci sarà l'invito ufficiale a coloro i quali volessero partecipare a questo viaggio di fare questa trasferta ad Adenau Siete presto in partenza anche voi di Clusone? Esattamente, fra un mese circa si parte il sabato 6 aprile per tornare il 9 aprile con questo è quasi tutto organizzato quest'anno abbiamo la collaborazione il bisogno anche non solo collaborazione da parte dei cuochi dall'associazione cuochi di Bergamo perché i nostri cuochi sono impegnati nelle nostre attività abbiamo dovuto ricorrere a quello abbiamo come trattenimento e così via le donne dell'era di Rovetta che ci fanno di trattenimento per la serata su questo pranzo e poi non vorrei dimenticare altri credo che ci sia tutti c'è la partecipazione un po' di personale dell'Astra la scuola alberghiera con i ragazzi della scuola alberghiera e spero che tutto funzioni al meglio E' conclusione, state lavorando anche per individuare un altro paese con il quale gemellarsi? Sì, l'amministrazione in collaborazione con l'Istituto Fantoni ha dato mandato appunto a loro di fare una ricerca su un paese anglofono visto che siamo già gemellati con un paese francese questa ricerca porterà una griglia di paesi che verranno appunto individuati dai ragazzi della quarta del turistico dell'Istituto Fantoni in collaborazione ovviamente con gli insegnanti e soprattutto la professoressa Sonia Casu questa griglia sarà sottoposta all'amministrazione poi andremo a individuare il paese che ha i requisiti che noi avevamo individuato come linea guida per la scelta di questo paese tra l'altro in linea così sintetica il collegamento facile con l'aeroporto di Orio la presenza di scuole turistiche e professionali legate anche al settore appunto della cucina per poter instaurare ulteriori scambi di questo tipo e adesso aspettiamo i risultati di questa ricerca e poi avremo la novità andremo a approfondire e faremo sapere con quale paese anglofano riusciremo a instaurare questo rapporto